Un'impressione su queste manifestazioni natalizie appena inaugurate? Penso che siano molto positive, è quello che noi vogliamo fare festa e star bene specialmente in questi momenti, nei momenti alla fine di festa perché il Natale è la festa di tutti e quello che abbiamo pensato è fare questo panettone con la cipolla rossa di Tropea che è il nostro cavallo di battaglia ma non è una forzatura, è una cosa incredibile dal punto di vista proprio gastronomico, culinario che invito tutti ad assaggiarlo perché è fantastico. Grazie a tutti